Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, ben ritrovati su Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, un santo pomeriggio, Leonardo Maria Pompei, siamo di nuovo in onda per una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato alla preghiera. Ora vi ricordo che la volta scorsa abbiamo cominciato a parlare, abbiamo aperto un capitolo molto importante, che è quello della preghiera dei salmi, scusate, del pregare con i salmi, cominciando a familiarizzarsi con la preghiera pubblica della Chiesa, che è appunto la liturgia delle ore. Abbiamo cominciato a vedere l'importanza del pregare con i salmi, tipi di salmi, e soprattutto la dignità che ha questo tipo di preghiera, perché è completamente costruita, salvo le parti degli inni come abbiamo cominciato a vedere, con dei brani tratti dalla Sacra Scrittura. I salmi stessi sono scrittura ispirata, i salmi e i cantici anche, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E quindi sono come parole che Dio stesso ha messo in bocca ai Suoi figli, perché attraverso i salmi potessero trovare le parole adeguate per esprimere a Lui e per esprimersi con Lui, trasformando in preghiera tutte le circostanze più svariate e anche più comuni della vita terrena. Abbiamo fatto alcuni esempi, io amo citare per esempio i salmi di lamento, che trasformano quelle esperienze dolorose della vita umana, che possono essere appunto le prove, le croci, le tribolazioni, che come accennavo l'oltre scorsa possono diventare addirittura purtroppo fonte di bestemmia o di ribellione alle confronti di Dio, trasformarli in preghiera. Corri Signore, vieni presto in mio aiuto, salvami dal fango, sto affondando, non ce la faccio più. Ecco, tutte cose di questo genere che in qualche modo Dio, che conosce il cuore dell'uomo, appunto gli ha messo in bocca la preghiera a Lui gradita, che rappresenta la modalità con cui trasformare tutte le circostanze, le vicende della vita umana in preghiera. Ecco, quindi è molto bello come per la preghiera in generale lasciarsi ammaestrare dal Padre Nostro, perché il Padre Nostro è il Signore Gesù. Vi ricordate quando ne abbiamo parlato? Abbiamo detto, noi possiamo chiedere al Signore esprimendoci in altri modi, diceva Sant'Agostino, ma non possiamo chiedere altre cose, nemmeno che mai cose contrarie al Padre Nostro. Ecco, io non potrei chiedere al Signore fammi ricco, perché il Padre Nostro dice dammi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Posso e devo chiedere al Signore fammi trovare lavoro, per esempio, se non ce l'ho fammi avere di che vivere. Ecco, ma non fammi diventare ricco, per esempio, no? Ecco, così il modo con cui ci si relaziona con le prove e con le circostanze dolorose della vita è espresso dai salmi, i quali però, ricordiamolo, sono molto spesso salmi di lode. Ecco, e qui tocchiamo un'altra metta della preghiera liturgica, quindi dell'importanza e della dignità che questa forma di preghiera ha, e sempre come scuola, capite, perché la preghiera con i salmi è anzitutto un ammaestramento per noi, cioè è un insegnare come dobbiamo pregare. Ecco, io ho già detto quando parlavamo, quando abbiamo accennato all'adorazione eucaristica e vorrei poi tornare su questo argomento, l'importanza fondamentale di avere un colloquio possibilmente quotidiano, a cuore e a cuore con Gesù eucaristia. Ecco, è importante però che questo colloquio, che deve essere un colloquio franco, deve essere un colloquio sincero, io devo parlare a Gesù dei miei problemi, delle mie difficoltà, di tutto quello che mi passa per la mente, ecco, è importante però che sia un colloquio, tra virgolette, educato, non educato nel senso che noi diamo a questo termine, che non dobbiamo fare male educati con Gesù, ma educato nel senso etimologico, cioè io mi esprimo con lui avendo già imparato, ecco, come rielaborare le vicende della vita umana, di cui devo parlare con lui, in maniera però a lui gradita. Ecco, questa è l'importantissima funzione pedagogica che svolgono i salmi, e che è una delle motivazioni che rende assai importante per chi può dedicare una parte del proprio tempo a imparare a pregare appunto con i salmi. Parlare dei salmi di lode vuol dire, ecco, che la forma massima di preghiera, questa l'abbiamo visto nelle puntate introduttorie, che noi possiamo fare a Dio, è la preghiera di lode e di ringraziamento. Se noi diventassimo santi, c'è un salmo che dice, «Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode». Ripeto, eh? «Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode». Retti che si può tradurre anche con santi. È una frase molto profonda. Perché? Perché significa che coloro che sono giusti nel Signore, cioè che gli obbediscono in virtù della grazia che Dio conferisce loro e che li rende capaci di obbedire alla sua voce, quindi giusti nel Signore, quindi non sono giusti in se stesso, anche se hanno fatto la scelta comunque meritoria di volerlo servire, esultano. Ecco, cosa vuol dire? Ieri era la grande festa dell'Assunta, spero che tutti gli ascoltatori abbiano santificato la festa come di dovere, nel Vangelo dell'Assunta c'era il Magnificat. Il Magnificat. L'anima mia magnifica, il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quindi la Madonna è perfettamente in linea con il primo versetto di questo Salmo, no? «Esultate giusti nel Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore». Dice tra l'altro una cosa molto bella la Madonna in questo passaggio del Magnificat. «In Dio mio Salvatore». Quindi vuol dire che anche se lei era senza peccato all'Immacolata, dentro l'essere Immacolata c'è un'azione salvifica dell'Altissimo. Ecco, quindi per esempio tutti quanti i negazionisti, prima che fosse fatto il dogma dell'Immacolata, che dicevano «No, la Madonna non è concepita senza peccato», si appoggiavano proprio a questo. Dicevano «Ma se dice Dio mio Salvatore, vuol dire che è stata salvata dalla piccolissima macchia», così dicevano, che istantaneamente ha contratto e che poi in virtù dei meriti gli è stata tolta, no? Invece Dunscote, con lui tutta la scuola francescana, ha detto «Eh no, è stata salvata, ma in un modo più nobile». E quindi poi hanno spiegato che c'era la retenzione dopo il peccato, e c'era la retenzione prima il peccato, la cosiddetta retenzione preservativa, che è quella che ha avuto poi Maria Santissima, no? Che è più alta, più bella, più efficace e più nobile di quella che abbiamo ricevuto noi. Ecco, comunque la Madonna esprime le sue sultanze. Attenzione, ai retti si addice la lode, ai santi si addice la lode. Perché? Ecco, perché chi arriva alla santità è giunto a credere senza nessun dubbio, che veramente non si muove foglia che Dio non voglia. San Paolo scrive nelle sue lettere «Tutto», un termine forte in greco, «concorre al bene di coloro che amano Dio». Tutto! Tutto vuol dire cose liete e cose avverse. Sofferenze fisiche, sofferenze morali, sofferenze spirituali, rovesci economici, terremoti, non temiamo se trema la terra, qualunque cosa. Addirittura concorre al bene, questo non vale per la Madonna, ma vale per noi poveri peccatori, anche qualche caduta, che anche il santo, anche il giusto può fare, e che il Signore permette, dicono il vestito di spirito, per consolidarlo e mantenerlo nella santa umiltà. Perché se no si pensa di essere chissà chi, se vede che non combina mai nemmeno un piccolo guai. Il santo è colui che loda Dio sempre, d'accordo, e sa lodare Dio, perché voi capite, quando capita una esperienza brutta, la reazione molto umana che si ha è «Ma che fa? Dio mi fa succedere questa cosa e sta a guardare?» Ma dov'è Dio che aveva fatto succedere questa cosa? Ma perché Dio che è buono permette questa cosa brutta? Come mai non mi ha guarito il figlio e l'ha lasciato morire? Eccetera, eccetera. Queste sono tutte quante considerazioni molto umane, che a noi ci sembrano spontanee, ma che in realtà sono molto offensive nei confronti di Dio. Perché noi vediamo le cose malamente e alla maniera umana, ma in Dio, un altro salmo stupendo, dice «Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, non perché io sono Superman, ma perché la mia vita è un prodigio». Ecco, voi pensate, chi di voi, invito sempre, faccio sempre un po' di consigli per gli acquisti, di pubblicità neanche troppo occulta. Chi ha, per esempio, ascoltato bene il ciclo di Catechesi, chi sono io per poter amare, ma la scoperta di se stessi, avrà visto che se uno comincia a scavare dentro di sé, dentro il proprio vissuto, trova tante cose brutte, a volte trova tanta sporcizia, sporcizia seminata dal male subito, quindi ferite, situazioni non risolte, non compromesse, situazioni di odio, genitori che non si prendevano, violenze fisiche, psichiche, morali, situazioni di non accettazione, di non amore, di disamore, abbracci mancati, eccetera, eccetera. Tutte queste cose poi non possiamo riceverle così, perché una ferita che noi abbiamo ricevuto produce male e non è facile perdonare e riconciliarsi con chi ce l'ha fatto. E se questo però non c'è, io a mia volta diverrò un fabbricatore di male, perché comincerò a dare delle risposte sbagliate a delle carenze che sento, comincerò ad andare a cercare l'amore dappertutto, essendo disposto a qualunque compromesso, pur di trovarne una briciola, eccetera, eccetera. Si in genera un pandemonio. Quando è che una persona è riconciliata? Quando si mette davanti alla propria vita e dice l'anima mia magnifica il Signore, oppure ti lodo Signore, ti ringrazio, benedetto sei tu, esultate giusti nel Signore, benedirò il Signore in ogni tempo, salmo ma sulla mia bocca sempre la sua lode, uno dei salmi più beni, mi pare che il 33. Capite? Questa è la massima glorificazione di Dio possibile. Perché? Perché fare una cosa di questo genere presuppone una fede assoluta, all'altezza di quella di Abramo, che è stato capace, per l'amore di Dio, di andare a fare l'infattibile, l'assurdo, il sacrificio del figlio, anche questo l'abbiamo sentito nella messa di due domeniche fa, quando la lettera di Ebbè presentava lo splendido capitolo 11 con i campioni della fede, io lo chiamo così, di cui Abramo è proprio fuori classe, è il maradona della situazione, è il fuori quota tra tutti quanti i campioni della fede. E' la grande sfida della lode, la grande opera della lode. I salmi sono una grandissima educazione, perché noi, vedete, quando ci penso mi vengono in mente, no? Ve ne dirò al Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Esultate giusti nel Signore, esanti se dicero lode. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose sono altissima spiritualità e fino a quando non ci arriveremo stiamo sempre, come dire, al di qua della vera e solida e autentica santità. Ecco, sono le 17, figlioli miei cari, prima di fare uno step successivo in questo percorso, che non so se riusciremo oggi a finire, spero, altrimenti al limite ci lo porteremo la prossima volta, e recitiamo insieme un Ave Maria, ecco per un bel saluto alla Madonna. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fruttus fei in Cristo Iesus, sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, entriamo un pochino addentro la liturgia delle ore, e cominciando a entrare un po' nel merito, ecco perché poi penso che molti ascoltatori, già ho visto alcune risonanze che mi sono arrivate la puntata scorsa, dice ma dove sta il seguito perché vogliono imparare come si, come si, adesso lo vedremo. Anzitutto la liturgia delle ore, in quanto preghiera pubblica e ufficiale della Chiesa, è obbligatoria per tutti i membri della gerarchia, dal diaconato fino all'episcopato, fino al Papa, tutti compresi. I membri della gerarchia e i religiosi e religiose sono obbligati a recitare la liturgia delle ore, che chiamerò per ragione di brevetà, usando il nome tradizionale del breviario, ecco, e anche se il breviario è un romanum, quello prima della riforma, ha una struttura simile, ma un po' più elaborata rispetto alla semplificazione operata nella liturgia delle ore. E devono recitare quasi tutte le ore canoniche. Ecco, nei conventi di clausura o negli ordini monastici, vedremo che è rimasta la recita obbligatoria di tutte le ore canoniche, comprese le tre ore medie, che nella riforma adesso, diciamo che è data facoltà anche a coloro che sono obbligati, di scegliere quale delle tre ore tra terza, sesta e nonna recitare, ecco, lasciando le altre come facoltative. Ed avendo per questo predisposto una serie di salmi, che si dicono nei giorni comuni, che sono appunto contenuti nella cosiddetta salmodia complementare, mentre gli ordini monastici, che recitano tutte le ore canoniche, ordinariamente hanno ottenuto dalla santa serie degli indulti per poter, evitando così tutti i vati i giorni negli stessi salmi, per poter avere, diciamo, delle aggiunte, sempre con i salmi del salterio, alle singole ore. Vi dicevo anche, quindi, mentre fedeli laici, la recita di qualche ora, o se anche vogliono, di tutta la liturgia delle ore, è semplicemente raccomandata dalla Chiesa, quindi non c'è nessun tipo di obbligo, ma è indubbiamente una cosa che se c'è e se è ben fatta, è positiva. Ed è da incoraggiare, come molte parrocchie, penso che sappiate, qui da queste parti c'è stato un pochino un calo, c'è stato un periodo negli anni addietro dove spesso, magari prima della messa, o anche all'interno della messa, o in certi periodi, o la domenica, magari si dicevano le rodi, oppure i vespri, o in qualche periodo dell'anno liturgico, o cose di questo genere. Allora, com'è strutturata? Diciamo, il senso della liturgia delle ore è di accompagnare l'intero arco della giornata, si chiama liturgia delle ore perché appunto è funzionale, indirizzata alla santificazione del tempo e dell'attività umane. Quindi sono scandite una serie di intervalli in cui recitare le singole ore canoniche. Ecco, con la raccomandazione di provvedere, specialmente per chi è obbligato, alla recita della singola ora canonica, ad un orario, possibilmente quello proprio preciso, ma quanto più vicino possibile a quello canonico. L'ora terza si recita intorno alle 9, d'accordo? Possono essere otte e tre quarti, possono essere nove e mezza, possono essere dieci, ecco, salvo, come dire, impedimenti che la necessità non ha legge, se uno tutti i giorni recitasse per trascuranza l'ora nona, l'ora terza, alle sette di sera, non sarebbe evidentemente l'ideale. Ecco, le ore attualmente previste sono Ufficio delle letture, Lodi Matturine, ora media, recitabile a ora terza, ora sesta, ora nona, adesso vedremo, Vespri e Compieta. Diciamo che queste edizioni ora terza, ora sesta, ora nona, nel breviare antico c'era anche l'ora prima, ma non lo so se poi farò anche una breve rassegna sulla struttura del breviare romano, vedremo, chiaramente questo modo di chiamare il tempo ricalca il calendario romano, ecco, nel calendario romano voi sapete che c'erano le ore che cominciavano dalle sei della mattina che è l'ora prima e finivano con le cinque del pomeriggio, quindi la terza sono le nove, la sesta sono le dodici, la nona sono le tre, l'undicesima sono le cinque, alle sei, che alla dodicesima ora comincia al tempo stesso la cosiddetta prima vigilia, quindi dodici ore e quattro vigilia, la prima vigilia era l'orario compreso tra le diciotto e le ventuno, ok? la seconda vigilia tra le ventuno e le ventiquattro, la terza vigilia tra le ventiquattro e le tre, la quarta vigilia di notte tra le tre di notte e le sei della mattina. Le vigilie venivano nominate così perché corrispondevano ai turni di guardia dei soldati, quindi i turni di guardia erano di tre ore l'uno e quindi per comodità avevano inserito questo modo di scandire il tempo. Chiaramente la prassi ecclesiale che è figlia del tempo in cui è nata specialmente la chiesa latina e la chiesa di Roma ha assunto e quindi sapete che nella chiesa è molto grande il fattore tradizione questo modo di contare il tempo permane tuttora così come chi usa la liturgia dell'ora capisce qualcosa l'usanza ebraica ecco quindi coesistono queste due cose l'usanza ebraica che faceva cominciare la giornata non come per noi dall'alba o meglio dalla mezzanotte comincia il nuovo giorno che poi con l'alba vedete i romani comincia l'ora prima ecco per gli ebrei il giorno cominciava la giornata finiva con il tramonto del sole e già dopo il tramonto del sole cominciava il giorno successivo per esempio se pregate la liturgia delle ore troverete per esempio il sabato che dopo l'ora media e l'ora nona ci sono i primi vespri della domenica è anche il motivo per cui esiste la messa prefestiva la messa del sabato sera è già la messa della domenica questa tradizione deriva dal mondo ebraico ecco perché per quanto riguarda il giorno di sabato penso che tutti sappiate che quando tramontava il sole del venerdì vedete anche nella crocifissione di Gesù era la parasceve e poiché affinché i corpi non rimanessero sulla croce quel sabato che era un giorno sacro i giudei chiesero a Pilato che gli fossero spezzate le gambe spezzarono le gambe al primo al secondo e Gesù era morto eccetera eccetera a che ora è morto Gesù? alle tre quindi hanno fatto in tempo a seppellirlo prima che tramontasse il sole quindi verso le cinque le sei e che quindi cominciasse il sabato che era un giorno solenne d'accordo? ecco quindi c'è questa perché uno deve anche un attimo capire perché sennò quando uno apre questo mondo ci capisce niente ecco quindi bisogna prima familiarizzarsi con un certo linguaggio no? vi accennavo già la volta scorsa che i 150 salmi sono distribuiti su un ciclo di quattro settimane per sapere in quale settimana si sta adesso per esempio siamo nella quarta settimana in questi giorni qui bisogna comprarsi un calendari liturgico adesso online si trovano queste cose quindi il cartaceo per chi usa bene gli strumenti è diventato completamente inutile ci sono delle applicazioni che girano sugli smartphone sia Apple che Google che tutti scarichi direttamente la giornata oierna con l'ufficio del giorno e te lo dice già lui in che settimana stiamo se la prima la seconda la terza la quarta e c'hai già tutto quanto il breviario pronto ecco quindi molte delle cose che sto per dire sono superate ecco io da tempo comprendendo quanto questi strumenti avessero semplificato la vita ho da tempo accantonato molto materiale diciamo così cartaceo perché insomma anche quando uno si deve muovere conto è portarsi dietro volumi tra bibbia breviario messale eccetera eccetera un conto è averci una tavolettina da 500 grammi dove c'è dentro tutte queste cose senza nessun problema senza pericolo di scordartene e di non ricordarti che fine hanno fatto no? e in ogni caso parlando diciamo della della struttura tradizionale ecco la liturgia delle ore completa quindi con tutte le ore canoniche e con tutte le letture di tutto quanto l'anno è composta di quattro volumi ed è anche una spesetta insomma diciamo così non indifferente ecco quindi però la liturgia delle ore è così ecco per chi vuole avere tutto il materiale a disposizione quindi tutta la liturgia delle ore tutte le letture tutte e quattro ore settimane tutte le feste dei santi e tutti i comuni che poi si usano durante le varie festività dei santi il comune della Madonna della dedizione di una chiesa di un martire di più martiri dei pastori dei dottori della chiesa dei santi dei non vergini delle vergini dell'ufficio dei defunti eccetera eccetera quindi tutto ecco girano anche giravano io non ne sono molto pratico insomma perché ormai sono vent'anni che giro per tra seminari e esercizio del ministero quindi è un po' dimenticato però ci sono dei volumi unici che non sono completi ma sono insomma abbastanza completi che credo che ci manchi il proprio dei santi insomma però e poi ci sono i librettini che si trovano in molte parrocchie che contengono le ore della liturgia appunto delle ore anche distribuitene nelle quattro settimane e chiaramente senza le feste dei santi e senza tutto l'ufficio delle letture perché gran parte del materiale che va a comporre questi quattro volumi dovete capire che su 365 giorni ogni giorno ci sono due letture una biblica e una ecclesiastica diciamo così può essere un padre della chiesa può essere un documento di un concilio può essere lo scritto di un santo cose di questo genere che si leggono tutto l'anno sono sono brani abbastanza corposi cioè di una o due pagine l'una quindi fate presto se ogni giorno restano quattro pagine di lettura da fare se moltiplico 4 per 365 che quasi 4 per 4 sono 1500 pagine solo di letture tolte quelle hai tolto già tanto poi ci sono quelle proprie dei santi tipo il primo di novembre che è un giorno a parte tipo ieri che è un giorno a parte eccetera no quindi ecco perché c'è tutta quanta questa questa carta ecco i volumi della liturgia delle ore uno è per l'avvento e per il tempo di natale uno è per il tempo di quaresima e per il tempo di pasqua e due sono per il tempo ordinario quindi per le settimane del tempo ordinario voi sapete che nella nuova formulazione sono 32 settimane del tempo ordinario che culminano con la festa di Cristo Re e poi il resto del tempo è suddiviso tra avvento tempo di natale tempo di quaresima e tempo di pasqua questo è la struttura anche dell'anno liturgico che ovviamente la liturgia delle ore segue io sto andando veloce perché non stiamo facendo un corso di liturgia però queste cose perdonatemi se sono un pochino teoriche ma è necessario conoscerle ecco detto questo vediamo come si distribuisce la liturgia delle ore in ogni singola giornata allora abbiamo detto che ci sono l'ufficio delle letture le lodi ora terza sesta e nona fermo restando che una se ne sceglie ordinariamente nell'attuale disciplina della chiesa vespri e compieta l'ufficio delle letture originariamente si chiamava mattutino e era la preghiera notturna nella sacra scrittura è attestata sia nell'antico che nel nuovo testamento l'importanza e l'efficacia della preghiera notturna anche Gesù ci dicono i Vangeli si alzava di notte a pregare e ha raccontato delle parabole tipo quella dell'ambico importuno dove c'era qualcuno che alle tre di notte andava a bussare alla porta del padrone è chiaro che questa è una è una è una espressione simbolica no? ecco che indica l'efficacia che ha la preghiera notturna ecco quindi l'ora consona per il mattutino è un'ora notturna ecco nella nuova disciplina però per semplificare la vita agli utenti specialmente quelli che sono obbligati è stato stabilito che l'ufficio della lettura può essere detto a scelta di chirorescita in qualunque momento della giornata quindi per ragioni di convenienza quando è opportuno quando non c'è possibilità quindi c'è questa libertà c'è questa facoltà che viene conferita tu puoi fare l'ufficio delle letture alle 3 di notte se sei così bravo o comunque in qualunque momento da dopo la mezzanotte in poi la prima ora canonica quindi quella che si fa la mattina quindi abolita l'ora prima in un orario che si è compreso tra le 6 e le 9 che si avvicini quindi a questo momento ecco quindi prima dell'ora terza sono le lodi mattutine le lodi mattutine e i vespri sono le due strutture portanti della liturgia delle ore non solo per ricchezza e completezza di contenuti ecco ma anche per la loro fortissima valenza simbonica ecco perché la lodi mattutina dà nella mente della chiesa il là alla giornata comincio la giornata lodando Dio i vespri quindi quando cala il tramonto quando cala il sole capite che l'arco della giornata simbolicamente rappresenta anche l'arco della vita umana con la nascita che è l'alba e la morte che è il tramonto ecco e comincio la giornata lodando Dio la termino rendendo grazie al Signore e affidandogli ecco il riposo della notte quindi nelle lodi mattutine c'è sempre un inno ci sono due salmi e un cantico dell'antico testamento nella parte salmodica e fisso nella seconda parte ci sono due cantici evangelici la mattina il benedictus il cantico di Zaccaria e la sera il magnificat il cantico della Madonna dopo il benedictus e il magnificat seguono la mattina una serie di preghiere da recitare che si chiamano tecnicamente invocazioni quelle della mattina intercessioni quelle dei vespri a cui segue il Padre Nostro e l'orazione che si pronuncia senza dire preghiamo perché forma un tutt'uno con il Padre Nostro come l'embolismo per farvi capire della Santa Messa che il sacerdote dice dopo il Padre Nostro proseguendo ecco in una linea di continuità ideale con la preghiera no? il Padre libera senza premettere preghiamo eccetera eccetera ora queste preghiere possono essere recitate ripeto privatamente quindi singolarmente o in gruppo e eventualmente essere presieduti da un ministro sacro sacerdote o diacono e ovviamente quando presiede un sacerdote o un diacono l'ora canonica termina specialmente l'Odi e Vespri con la benedizione ecco quando nella recita privata anche da parte di un prete che non si benedice da solo o un diacono oppure un laico la formula è il Signore mi benedica ci benedica ci preservi da ogni mare ci conduca alla vita eterna Amen si conclude in questo modo tutte le ore canoniche cominciano con l'invocazione di un salmo o Dio vieni a salvarmi Signore vieni presti il mio aiuto come detto nella puntata precedente qui bisogna non commettere l'errore quando si recita in gruppo di usare il plurale ho spiegato la volta scorsa perché nono Dio viene a salvarci e Signore vieni presti il nostro aiuto ecco perché si cita il versetto di un salmo e la preghiera canonica liturgica scusate della chiesa anche quando recitata privatamente segretamente da un semplice fedele è sempre partecipazione alla preghiera pubblica dell'unica voce della chiesa quindi lodi e vespri tra le 6 e le 9 le lodi intorno al tramonto del sole quindi questo varia tra inverno e estate diciamo che l'ora nona sono le 3 quindi dopo le 3 si possono recitare i vespri le 4 le 5 le 6 le 7 questo poi dipende un pochino anche dagli abitudini ecco diciamo che intorno alle 21 circa o dalle 21 in poi si recita l'ultima ora canonica che è la compieta la compieta che prevede ed è raccomandabilissimo ecco la sapienza della liturgia della chiesa subito dopo l'invocazione introduttiva di dedicare un certo tempo all'esame di coscienza sarebbe molto importante imparare a fare l'esame di coscienza quotidianamente anche per avere sempre ben pronta la confessione che andrebbe fatta con una certa frequenza fatto l'esame di coscienza c'è il confiteor durante la compieta se preseduta da un sacerdote anche con l'assoluzione simile a quella che fa dopo l'atto penitenziario della santa messa poi c'è solo un inno un solo salmo una lettura breve e un altro cantico evangelico che è il nuctimitis cosiddetto che è il cantico di Simeone le parole che il santo vecchio Simeone pronunciò dopo aver visto la Madonna con in braccio Gesù Bambino durante l'episodio della presentazione del Tempio di Gerusalemme la compieta chiude obbligatoriamente con un antifona mariana ci sono una serie di preghiere mariane dall'Ave Maria alla Salve Regina a quella molto bella ecco da riscoprire che è sotto un presidium e alcune altre preghiere tradizionali tipo l'Alma Redentoris Mater tipo l'Alma Regina Celorum eccetera questa preghiera nella liturgia dell'Ure 9 è a scelta di chi la recita ecco salvo ecco per il periodo del tempo di Pasqua che è caldamente raccomandato recitare Regina Celi dopo compieta che è la addirittura che è la preghiera che sostituisce per tutto il tempo di Pasqua anche per chi ha questa devozione la recita dell'Angelus che durante quel periodo è sostituita appunto da questa altra invocazione mariana ci resta poi da parlare prima dell'ufficio della lettura che vorrei parlarne per ultimo dell'ora media l'ora media ha una struttura attualmente composta da un inno tre salmi una lettura breve un versetto brevissimo di risposta e l'orazione conclusiva il senso di quest'ora canonica è appunto di creare un'oasi ecco durante la giornata uno spazio in cui mi fermo dalle occupazioni ecco perché diciamo che esclusa la vita monastica si è ridotta a una ora scelta quindi di chi la celebra e rivolgo il pensiero a Dio capite che il fine pedagogico della liturgia delle ore è anche educare le persone a non perdere mai il senso della presenza di Dio santificando il tempo e tutte le cose che si fanno durante il tempo questa cosa si può assolvere anche con altre come dire pratiche ecco che cercheremo poi di vedere devote di preghiera però è molto importante apprezzare quindi considerare questo fine pedagogico di quest'ora canonica che è ricordarsi di Dio e della sua presenza e del dovere che abbiamo di agire sotto i suoi occhi e di volgere tutto alla sua gloria e presentarglielo quindi attraverso la preghiera liturgica l'ufficio delle letture di cui appunto ho voluto parlare per ultimo comincia ordinariamente con l'invitatorio l'invitatorio è un versetto preceduto solo in quest'ora non dall'invocazione Dio viene a salvarmi ma Signore apri la mia labbra e la mia bocca proclami la sua lode ecco accompagnato non con il segno della croce come l'altro incipit ma con un segno di croce tracciato sulle labbra come quando ascoltando il Vangelo diciamo gloria a te o Signore che ci segniamo sulla testa sulle labbra e sul cuore ci si fa un segnetto della croce sulle labbra pronunciando con il dito pollice della mano destra e sempre con le stesse modalità quindi dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra così come ci facciamo la croce il segno di croce così normalmente ma soltanto con il dito sulle labbra e poi comincia il Salmo 94 cosiddetto invitatorio molto 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 bello che appunto viene recitato sempre nel momento in cui viene fatta la prima ora canonica della giornata quindi ordinariamente è l'ufficio delle letture però supponiamo che lo troverete questo nei libri liturgici ecco perché ve lo dico supponiamo che io decido di recitare l'ufficio delle letture alle 5 del pomeriggio ne conseguo che la prima ora canonica che farò saranno le lodi se non ho fatto prima l'ufficio delle letture l'invitatorio deve essere fatto nelle lodi quindi solo quando le lodi cominciano senza aver prima celebrato l'ufficio delle letture l'invitatorio si fa in quella sede quindi signore aprire le mie lambre la mia bocca proclammi la tua lode l'antifona e la recita del salmo invitatorio si fa alle lodi se fatto l'ufficio delle letture prima riprendiamo il trattato dell'ufficio delle letture e il capitolo è chiuso le lodi cominciano normalmente con Dio viene a salvarmi e con la recita dell'inno dopo l'invitatorio c'è l'inno dell'ufficio delle letture ci sono tre salmi che nell'ufficio delle letture sono sempre salmi che hanno come funzione quello di favorire l'ascolto e l'incipiente meditazione perché quest'ora canonica ha come fine vedete anche educativo per noi la celebrazione delle letture cioè mettersi in ascolto della parola di Dio la prima e della voce della chiesa la seconda ecco sono testi molto belli quindi certamente l'ufficio delle letture richiede un pochino di tempo celebrarlo con calma richiede una quindicina di minuti ci vogliono ecco quindi io capisco che per una persona comune potrebbe rappresentare una difficoltà collocare questa cosa no? ecco però è una ricchezza molto molto grande e il fine di quest'ora canonica è ricordarci cosa fondamentalissima la necessità di ascoltare il Signore tant'è vero che il Salmo 94 che si dice proprio durante quest'ora dice ascoltate oggi la sua voce non indurite il cuore come a Meriba come nel giorno di massa nel deserto e qui ci riporta vedete la liturgia stessa pubblica della chiesa abbiamo già parlato ad una dimensione primaria della preghiera delle volte un po' troppo frettolosamente accantonata che è quella dell'ascolto non abbiamo parlato quando abbiamo affrontato il discorso sull'orazione mentale o la meditazione cioè la preghiera non è soltanto un dire in continuazione parole 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 usare preghiere vocali 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 come dice Gesù essere ascoltati a forza di parole fare richieste 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 queste sono cose fondamentalissime il santo rosario per quanto come abbiamo visto è una preghiera completa è fondamentalmente una preghiera vocale perché alla fine durante il rosario tu devi dire per ogni mistero cinque volte il padre nostro cinquanta volte la mia maria cinque volte gloria al padre le devi dire quindi nessuno vuole sminuire la fondamentale importanza della preghiera vocale perché la preghiera vocale è fondamentale ecco però ridurre tutta la preghiera solo a questo è un po' poco come abbiamo cominciato a vedere e come accennato già più volte come continuerò a ripetere la preghiera cristiana ha un amplissimo respiro e per diventare uomini e donne di preghiera dobbiamo trovare modo di aprire tutti i rubinetti non fossilizzarsi e focalizzarsi solo su uno che è quello di moltissime anime devote che saranno sicuramente molto gradite al Signore per le intenzioni che hanno e che però riducono la preghiera a moltiplicare preghiere vocale su preghiere vocale devozione su devozione pratiche di pietà su pratiche di pietà io sono un amico io ne faccio diverse devozioni di pratiche di pietà non rientro tra qualcuno insomma di quei confratelli che magari disprezzano un po' queste cose come dire chiamandoli devozionismi oppure roba da vecchierelle la preghiera non va mai disprezzata però è vero che un equilibrio un'apertura a tutte le forme di preghiera cristiana ecco diciamo che il sottotitolo di questo ciclo di catechesi è proprio forme modi e tipi della preghiera cristiana perché vorrebbe avrebbe diciamo così l'intenzione di aiutare tutti a conoscere e quindi ad attingere a pieni polmoni ecco a questo tesoro che in duemila anni di tradizione ecco i maestri di spirito e di preghiera ci hanno consegnato ecco quindi questa è la struttura dell'ufficio delle letture nelle feste dopo la seconda lettura e il relativo responsorio si recita il tedeum uno dei più belli inniti di ringraziamento della chiesa e si conclude anche qui preceduta dal preghiamo così come nelle ore medie è incompieta l'orazione conclusiva è sempre preceduta dal preghiamo si conclude l'ora canonica diciamo anche che nelle ore nell'ufficio delle letture e nelle ore medie la chiesura dell'ora è benediciamo il signore rendiamo grazie a Dio quindi dopo l'ultima orazione non c'è la benedizione né impartita né invocata sul singolo celebrante non si dice il signore ci benedica e ci serve da ogni mare ma si dice benediciamo il signore rendiamo grazie a Dio la compieta ha una formula di chiusura propria che trovate nei libretti il signore ci concede una notte serena un riposo tranquillo si chiude così lodi e vespi si concludono con la benedizione altra cosa importante da dire è che salvo diversa disposizione che capita solo una volta ecco cioè con il cantico dei tre giovani nella fornace quindi con in versione stesa benedito per tutte del signore quindi solo in questo caso in tutti gli altri casi però terminata la recita del salmo e anche del salmo invitatorio quindi si recita sempre in gloria al padre quando si recita il gloria al padre do questa piccola raccomandazione è sempre bene chinare la testa in segno di venerazione anzi di adorazione ecco espressa con questo piccolo gesto delle tre persone della Santissima Trinità il gloria al padre ad ogni salmo ci sono delle posizioni del corpo per quanto riguarda la liturgia delle ore ecco si possono avere la liturgia delle ore può essere come per esempio in alcuni conventi monasteri accompagnata da dei gesti penitenziari del corpo cioè per esempio se uno vuole può dire il curato d'Ars diceva tutto il breviario così ginocchi le citava tutte le ore canoniche in ginocchi tutte è una libera scelta non è obbligatorio perché la salmo dio ordinariamente vedremo si fa seduti oppure alcuni istituti religiosi recitano tutte quante le ore canoniche in piedi che è una penitenza un po' meno dolorosa che farlo in ginocchio però stare in piedi per tutta la recita di una canonica è una piccola penitenza oppure si seguono le indicazioni liturgiche per i vari momenti e i vari momenti sono questi qui la salmo dio si recita seduti ogni salmo dio i tre salmi in rufficio di lettura i due salmi nel cantico dell'antico testamento di lodi e vespri il cantico dell'antico testamento nelle lodi del nuovo testamento nei vespri durante la salmo dio ci sono generalmente dei cantici di san paolo del libro dell'apocalisse la lettura breve si ascolta in silenzio così come le letture si ascolta scusate seduti così come le letture dell'ufficio delle letture e ci si alza all'antifona al magnificat al benedictus per quanto riguarda lodi e vespri e si rimane in piedi fino alla fine ci si alza all'orazione al preghiamo dell'ora media e al tedeum e se non c'è il tedeum al preghiamo dell'ufficio delle letture e dicevo dicevo appunto che i cantici nelle rodie mattutine sono tratti dall'antico testamento il cantico che completa la salmo dio nei vespri dal nuovo testamento e generalmente lettere di san paolo o libro dell'apocalisse ecco questo è un po' una una sintesi come e quando recitare queste e queste ore per chi volesse farlo allora vi ripeto i breti i diaconi i religiosi e i consacrati non hanno molta scelta potremmo prendere la liturgia delle ore e recitarla tutta salvo che hanno la facoltà di fare solo un'ora media come vi accennavo certo se le fanno tutte e tre nessuno se li mangia quindi però è obbligatorio farne soltanto una e stop un laico può godersi tranquillamente quella santa libertà che la chiesa gli concede non avendo nessun obbligo può agire come meglio crede c'è chi cerca di dire le odie e vespri benissimo c'è chi è maggiormente interessato alla dimensione dell'ascolto e recita l'ufficio delle letture benissimo ecco c'è chi ha la devozione di recitare la compieta prima di andare a dormire benissimo c'è chi magari sto parlando per esempio se qualche persona non è sposata e non è sposata magari anche per scelta perché ha scelto diciamo così di santificarsi non nella vita del matrimonio ha in qualche modo magari offerto la vita al signore ci sono persone io conosco qualcuno che vive così nel mondo però senza quindi legarsi a nessuna forma di istituto religioso di vita consacrata se a tempo nessuno gli proibisce anzi di poter recitare la liturgia delle ore intera un rapidissimo accenno ecco al termine di questa piccola catechesi sperando di essere stato esaustivo eventualmente invito i fedeli a fare qualche domanda se hanno qualche qualche dubbio diciamo che le cose essenziali ho cercato di dirle specialmente per la recita da parte dei fedeli laici comuni una parola sul breviarium romanum ecco perché quando Benedetto XVI nel mi ricordo se il 2007 o 2008 uno dei due comunque pubblicò il famoso motu proprio sommorum pontificum quello che ha di fatto liberalizzato l'uso della messa in rito romano antico almeno nella sua forma privata cioè un sacerdote che celebra una messa non d'orario ecco quindi una messa sua personale diciamo cosiddetta appunto impropriamente privata sia che la faccia in parrocchia ad orari differenti sia che la faccia altrove ecco può celebrare con il messale di San Pio V riformato da Giovanni XXIII nel 62 senza chiedere autorizzazione a nessuno il discorso delle autorizzazioni invece vale per le messe pubbliche specialmente in giorno festivo che richiedono il famoso cetus fidelium che deve farne formale richiesta al vescovo e i vescovi chiaramente devono andare incontro a questi tipi di richieste e qualora ci fosse un numero che ritengono congruo di Federico che desidera questa forma di celebrazione individuare una chiesa un sacerdote e un'ora in cui renderla a disposizione analogo provvedimento però Benedetto XVI prese per i sacerdoti soprattutto per i consacrati che sono obbligati alla recita della liturgia delle ore e concesse che l'obbligo del breviario fosse adempiuto da chi liberamente volesse farlo attraverso la recita del breviario romano sempre del 1962 cioè l'ultima versione riformata sempre da Giovanni XXIII allora la differenza è questo che il breviario romano è rigorosamente in latino quindi tutte le ore canoniche tutti i salmi tutti gli inni tutte le letture sono in latino le tre ore medie sono tutte e tre obbligatorie quindi terza sesta e nona devono essere tutte e tre recitate e lodi e vespri sono un po' più corposi ecco perché ci sono cinque salmi e lodi e cinque salmi e vespri con pieta è un po' più corposa perché ci sono tre salmi anziché un salmo l'ufficio delle letture che in rito antico si chiama appunto mattutino è molto più corposo nel senso che nelle ferie comuni nelle domeniche e nelle feste di terza classe ci sono nove salmi più tre letture nelle feste di seconda e di prima classe e così come in certe domeniche ci sono nove salmi e nove letture distribuite in cosiddetti tre notturni primo, secondo e terzo cioè in gruppi di tre salmi e tre letture tre salmi e tre letture e tre salmi e tre letture a differenza che in rito il mattutino non può essere diciamo così gestito a discrezione di chi celebra il breviario di chi lo recita perché deve essere la prima ora canonica l'unica concessione che è stata fatta è che il mattutino del giorno dopo può essere anticipato al giorno prima e collocato dopo i vespri e prima della compieta cioè per farvi capire vi dico queste cose perché per esempio chi ha gli strumenti Apple c'è un'applicazione che è curata credo proprio dai francescani dell'immacolata di cui qui siamo nella radio gestita dalle suore che si chiama Brevmeum e che riporta proprio giorno per giorno tutto il breviario romano antico e quindi il mattutino può essere anticipato ma collocandolo dopo la recita dei vespri e prima della recita della compieta oppure da mezzanotte in poi in qualunque momento può essere celebrato ecco l'importante è che sia la prima ora canonica del giorno l'ultima cosa che si trova nel rito antico è che c'è anche l'ora prima che è stata abolita nella liturgia delle ore l'ora prima è composta da un inno e da tre salmi e poi da una serie di invocazioni fisse tutti i giorni sono le stesse che sono delle invocazioni particolari per inchiedere al Signore una particolare benedizione per il giorno che si sta per affrontare capite che l'ora prima si recita alle sei quindi momento in cui sorge il sole e è facoltativo ma quanto mai bello è prevista l'ora prima la lettura del martirologio cioè si leggono dal martirologio romanum l'elenco quindi le gesta dei martiri del giorno seguente quindi per esempio oggi che è martedì se uno recita l'ora prima di oggi nel breviano romanum troverà il martirologio del giorno dopo questa è una cosa molto edificante che io raccomando di fare anche a chi non fa nel breviare romano nelle cose antiche cose perché leggere le geste dei martiri attraverso il martirologio quello del 62 quello di Giovanni XXIII è molto edificante perché il martirologio del 62 è semplificato però nella sua diciamo sobrietà ha lasciato delle brevissime però assai cruente a volte quando sono stati tali descrizioni dei tormenti subiti dai martiri ho visto nel breviario ultimo scusate nel breviario nel martirologio ultimo quello promulgato da Giovanni Paolo II che diciamo sono stati tolti tutti quanti i riferimenti un po' troppo crudi un po' troppo cruenti quindi mentre purtroppo nello spettacolo e nel mondo comune la violenza dilagava insomma che adesso si vedono certi film insomma con delle scene di violenza crudissima che sembrano vere sembra veramente di assistere alla scena senza rendersi conto che quella è finzione invece purtroppo da parte di noi cattolici è stata un'opzione dice no ecco forse per non dare come dire materia a qualche sceneggiatore un po' troppo truculento ecco perché io scherzando dico sempre scherzando qui si sta poco da scherzare che se uno si legge il martirologio nella versione tradizionale ci sono alcune descrizioni di scene di martirio che fanno veramente paura e che però al tempo stesso sono molto edificanti perché ci fanno vedere come i nostri padri e fratelli nella fede hanno affrontato davvero dei patimenti non indifferenti per amore del nome del signore che quindi edificano tutti noi attraverso la testimonianza della eroicità nella fede ecco detto questo vedo che siamo arrivati al termine della puntata mi scuso per eventuali diciamo incompletezzi ho cercato di sintetizzare il più possibile questi aspetti per abilitare chi dovesse desiderare di iniziare come crede e come vuole a pregare con la liturgia delle ore vi do con questo appuntamento la prossima settimana e vi benedico Ave Maria Grazie a tutti